Allora, buongiorno a tutti, eccoci qui un'altra splendida cornice per lanciare oggi altri monopattini. Siamo qui con Lime, un'azienda leader in Europa e non solo, che sta invadendo la nostra città con questi mezzi a emissioni zero che servono, ricordiamo, per il cosiddetto primo e ultimo miglio. In realtà quello che stiamo iniziando a fare con ancora più rapidità e determinazione, soprattutto dopo il Covid, è inondare la nostra città di mezzi in sharing, in condivisione. Devo dire che da questo punto di vista questa pandemia probabilmente ha aperto un po' gli occhi a tutti sul fatto che alcune delle nostre abitudini non erano sostenibili. Noi abbiamo cercato di trasformare una parte di questa crisi in un'opportunità per cambiare, per cambiare in meglio la nostra città, la nostra comunità e la nostra società. In questo c'è anche il fatto che dobbiamo puntare in maniera molto più rapida, molto più determinata, con una sterzata anche in velocità sulla mobilità sostenibile. Abbiamo una città che è sostanzialmente piena di mezzi pubblici differenti. Abbiamo le metropolitane, abbiamo i tram, abbiamo gli autobus, abbiamo lo sharing, però evidentemente il famoso primo e ultimo miglio, che talvolta viene fatto a piedi o talvolta per molte persone è complesso e viene sempre visto come un ostacolo per la mobilità pubblica, viene sostituito dall'auto privata. Ecco, noi oggi stiamo iniziando a dare delle alternative concrete. In seguito all'epidemia tante regole sono cambiate, il Ministero ha accelerato e semplificato una serie di procedure per la realizzazione delle piste ciclabili, quindi stiamo mettendo in strada e stiamo realizzando queste piste il più velocemente possibile per consentire a chi ha la possibilità, il desiderio o solo la curiosità di provare di spostarsi con un mezzo alternativo, con un mezzo a emissioni zero. Sulle piste ciclabili possono andare tranquillamente i monopattini, quindi unendo tante piccole tessere di un puzzle riusciremo a cambiare velocemente la mobilità nella nostra città. Ce la possiamo fare tutti insieme. Si tratta di collaborare e dare a ciascuno un'alternativa che ritiene preferibile e con partner come loro questo è possibile. Quindi grazie a Lime, grazie a voi che vorrete sperimentare. Roma vuole essere la capitale dello sharing sostenibile. Grazie a tutti.